L'Università degli Studi di Milano è la principale università multidisciplinare lombarda. Sette sono i dipartimenti coinvolti nel progetto Mind Food Sub. Il DEFENSE, responsabile scientifico del progetto, promuove la ricerca per garantire alimenti sani, sicuri e sostenibili, dal campo alla tavola, al fine di salvaguardare l'ambiente e migliorare la salute umana anche attraverso gli studi effettuati presso il suo centro ICANSA. Il DISA, con esperti di produzione, vegetale e applicazioni sensoristiche per la fenotipizzazione automatizzata delle piante, grazie alla sinergia con il Dipartimento di Informatica e i suoi esperti di infrastrutture per la modellazione ed elaborazione dati. Il DBS, impegnato nell'identificazione di genotipi vegetali e nella loro validazione funzionale, insieme a DISFARM e DISFEB, coinvolti nella caratterizzazione analitica e valorizzazione nutraceutica, a cui contribuiscono anche DEFENSE, DISA e VESPA, che promuove anche il recupero dei sottoprodotti per utilizzo a scopo veterinario. Sette dipartimenti con oltre 100 ricercatori che hanno messo a sistema le proprie infrastrutture, piattaforme tecnologiche e laboratori di ricerca. L'Università degli Studi di Milano crede nella ricerca in campo agroalimentare e nell'importante il ruolo che avrà per la salute umana e del pianeta.